Per il quarto anno consecutivo i freebikers romani sfilano nella capitale per ricordare i nostri marò ingiustamente trattenuti in India, la Torre e Girone. Questa iniziativa spontanea dei freebikers nasce soprattutto per sensibilizzare cittadini e istituzioni sulla questione, sperando che si raggiunga una soluzione quanto prima. Registriamo una certa inerzia delle istituzioni e con questa piccola iniziativa vogliamo ricordare a tutti che abbiamo ancora due militari trattenuti ingiustamente all'estero. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.